Ciao a tutti aliens, benvenuti in questo nuovo video. Allora, sicuramente sarò paonazza in faccia e starò morendo perché sono chiusa nel mio bagno e vi giuro sto schiettando perché ovviamente se tengo le finestre aperte sentireste tutto il bordello della strada eccetera, non mi sembra il caso. Ho pure appena fatto la doccia e asciugato i capelli, quindi ancora di più sto messa male. Sapete che io faccio 12.000 premesse prima di iniziare un video, quindi quella della faccia paonazza rossa l'abbiamo fatta, adesso vi faccio quella dell'audio. Gli scorsi video avevano dei problemi con l'audio, si sentivano solamente da una parte delle due cuffie, se lo ascoltavate con le cuffie, senza cuffie si sentiva benissimo. Per colpa del mio microfono, io non so che cazzo sia successo, delle impostazioni eccetera, ma è andato tutto a puttane, ok? Altra promessa, scusatemi le mani ma ormai la ricrescita del gel imbarazzante e le unghie stanno andando a puttane a farsi i cazzi loro, direi basta. Oggi siamo qua, di nuovo in bagno, cioè non facevo video nel mio bagno da navita, negli ultimi due o tre settimane, questo è già secondo, va bene, perché voglio provare a farmi la tinta rosa in casa. Come sapete io i suoi capelli prediligo i colori pazzi, super iper strani, li ho avuti di tutti i colori come sapete, però me li sono sempre andate a fare dalla parrucchiera, mai in casa, cioè in casa mi sono sempre fatta le tinte nero-blu, quelle classiche, mai nulla di questo, quindi sono anche un pochino agitata, soprattutto le altre volte magari anche le tinte nero-blu me le faceva mia mamma e invece oggi voglio provare io e già piango, sicuramente verano merda, soprattutto domani, cioè domani, oggi, venerdì, il giorno in culo vedete, io sono a Milano. E la tinta ovviamente che voglio provare, come potete immaginare, è la colorista Washout, due o tre lavaggi e andrà via, mi dispiace un po' perché lo sapete io, ho i miei capelli colorati, soprattutto i capelli rosa, e l'ho presa nella colorazione rosa. Qua c'è il risultato in base al colore del vostro capello, io direi che mi avvicino di più a questo, quindi dovrebbe venire proprio un rosa power. Adesso qua c'è scritto che vanno applicati a capello asciutto, 15 o 20 minuti, 20 se si vuole un colore un pochino più forte, voi sapete che io adoro il colore pastello, proprio chiarino, quindi penso che faremmo, insomma, 17 minuti, facciamo così a metà, a caso, va bene. E nada, io poi dopo, qua si può scegliere se farlo ombre, highlight, non avrò letto malissimo proprio, avrò letto malissimo. Comunque io lo farò su tutto il capello, su tutta la mia testa, oltretutto ho letto nelle istruzioni che per farlo in tutta la testa devo lasciare due o tre dita alla ricrescita, non comprendo il perché, io lo schiafferò su tutto così, tanto per gradire. Io mi sono venuta lavare i capelli e asciugarmeli, perché io ieri mi ero fatta i capelli un pochino ricci, cioè li avevo lasciati asciugare al sole con un po' di spuma, quindi erano molto crespi, erano pieni di prodotto, avevo paura che poi non attaccasse bene la tinta e facesse dei cosini, quindi per non saperne leggere né scrivere, siccome ho visto che dopo, quando lo andremo a sciacquare, non dovremo fare lo shampoo, sotto consiglio di mia mamma anche, mi sono lavata i capelli, mi sono fatto lo shampoo prima e poi me li sono asciugati, infatti sono morta, sono tra diecià. Molto bene, allora io direi di iniziare, mi sono messa questa maglietta vecchissima, in realtà non neanche tante vecchie, l'anno scorso, ma fa cagare. Comunque, dovrebbero essere quelle magliettoni lunghe, ma sorvoliamo ciò. Allora, oddio, ma perché ce ne sono così tanti? Ci sono due paia di guanti, uno lo terrei per dopo. Io ho preso due scatole di questo, perché non sapevo se mi bastava per tutti i capelli, anche se non è che ce l'eba di sta lunghezza chissà quanto enorme, però non si sa mai. E quindi andremo a fare adesso un bel bordello, siete contente? Non so neanche come si mettono i guanti. Già mi sto pentendo, già voglio tornare dalla mia parrucchiera di fiducia e siccome vedrete il bordello che mi farò sui capelli, vi lascio i suoi contatti nell'info box, come faccio sempre quando parlo di tinte, eccetera, perché se siete delle mie parti ho le mani sudate, non riesco. Se siete delle mie parti, lei è la migliore. Prova a dividere in sezioni, anche perché non devi... Cioè, questa tinta, a quanto ho letto, non devi mischiarla niente, va messa direttamente sul capello addirittura, neanche senza il pennellino. Allora, rileggiamo per essere sicuri, per favore, prima che io faccia cazzate, e ne sto già facendo, con questi cazzo di guanti, già con le unghie sono handicappata, preveno i guanti, auguri. Allora, l'effetto che vogliamo noi è questo, full head look. Ok? Bene. In due secondi, spremi il cuore direttamente sulla mano e apri il calo sui capelli. Massaggio i capelli, continuo ad aggiungere colore, fino a saturare i capelli interamente di colore. Bene. Ok. Boh. Guardate. Oddio. È super hyper, non mi sa che lo terremo 15 minuti, ragazze. Qua la vedo muy 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 grigia. Ho paurissima. Mamma mia, se starò sicuramente facendo un bordello, questo andava qua. Non c'è entrato, vero? No. Siete pronte? Beh, ragazze, io ho paurissima. Oh my god. Puzza di bianchetto. Pensate che io questo lavoro volevo farlo in camera, con lo sfondo. Lo state vedendo anche voi? Molto bene. Vorrei farvi vedere, ma o guardo io o guardate voi. Preferirei guardare io. Che è quello che io sono fissata con le radici, ragazze. Io ho un problema, veramente serio, con le radici. Cioè, se le radici non sono fatte bene, io veramente potrei mettermi a piangere. Perché è una cosa che mi fa schifo la la radice di un altro colore e mi dà fastidio. Quindi, se vedete che insisto su quelle, questo è il motivo. mi sento tanto chiara ad Alessandro quando cerca di farsi di un da platino in casa senza rifirci. Jesus Christ. Sto facendo un macello. Un macello. E dire che anni e anni di tinte almeno avrei dovuto vedere più o meno come si applica e di certo non è questo il metodo. Sicuramente non è questo. Vado a prendere un'altra boccia. ecco, guarda quanto l'ho... Voi dovete sapere che mamma, questa persona... mi ha attaccato un'ossessione sui capelli da quando sono piccola. Cioè, io non potevo uscire di casa se non avevo capelli fatti bene, chiaro? Quindi per colpa sua io adesso ho dovuto chiamare lei perché mi viene un attacco di panico se poi mi sciacca i capelli e delle parti bionde, chiaro? E se poi fanno schifo, chiaro? Bene. Mi prendo il naso. Quindi la... Quindi? Neh! Se lo riduci, ti giuro, ti sbatto la testa sotto al lavandino. Quindi un cazzo? Sei troppo alta per i miei gusti, mi vuole un seggiorino. No! Sto facendo lo squat e il mio corpo non è abituato a questa cosa. Ok, ho fatto un macello. Adesso vi farò vedere. e sono i 50, due minuti e me li tolgo perché lascio solamente 15 minuti, non mi fido di più. Sono già in panico, mi sto già pentendo di averlo fatto. Vi faccio vedere il casino. Queste sono le condizioni del mio lavello. Ho... diciamo così. Ho anche aperto tutti... oppure questo. Tutti i boccettini. Li ho tagliati. Così da riuscire a prendere tutto, 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 tutto il prodotto che c'era. e adesso niente, due minuti e vado a sciacquarmi. Incrociamo le dita, poi ve li faccio vedere da bagnati e di nuovo da asciutti quando ho fatto la piega. Insomma, quella piega più o meno che farò perché fa un caldo bestia anche se sta sbattendo l'irridio perché sta venendo un sacco di vento. Meno male. E nada, mi sto pentendo tantissimo di averlo fatto. Ho un sacco paura che non venga bene. Ho tutta la... una ricrescita pregna di prodotto perché volevo essere sicura di prendere tutti, tutti, tutti i ciuffettini. Sicuramente non mi piacerà come uscirà perché sono molto, molto, molto critica in quello che faccio. So quello che faccio quindi preso me non mi piacerà però va bene andiamo a lavarli. Vi evito questa scena perché devo andare nel pozzetto della... come si chiama? Del mio sgabuzzino a lavarli quindi ci entra poco. Questo è il colore da bagnato. Allora parte che sembra che abbia solamente tre peli in testa. Per ottenere allora un colore del genere dal platino a questo cioè insomma devi tenerlo 5 minuti 6 perché così mi sembra molto, molto fluo poi magari insomma una cosa che ho notato che magari si noterà ancora più d'asciutto è che sulla ricrescita mia del mio colore naturale non ha preso proprio per un cazzo ma questo me lo aspettavo quindi ora pettino e asciuglio. Scusate la magliettina ginnica ma intanto che aspettavo che mi si asciugassero un po' i capelli perché li tengo sempre in un panno un po' prima era andata ad aiutare giù mia nonna quindi sono così io non ho fatto né shampoo né ho messo del balsamo non ci ho fatto proprio niente lascio così in alcune parti sono più chiare degli altri allora io sto grondando di sudore ragazze cioè sono troppo grassa per fare video del genere asciugarmi i capelli col phon muoio non è venuta la piega proprio perfetta ragazze perdonatemi ma si schiatta ok questo è il massimo che sono riuscita a fare i capelli sono questi tornata anche la Miss però è una Miss da casa non so non so dirvi se mi piacciono o meno nel senso mi ricordano tanto dei capelli che ho avuto tre anni fa quattro anni fa se mai vi metto la foto e ovviamente questa è la versione brutta di quei capelli perché quei capelli me li fece la Mary ed erano spettacolari con un sacco di sfumature però questi sono non li sento rovinati né niente perché i miei comunque sono sempre un po' secchi essendo trattati tanto quindi è normale pure tutto oggi li ho stressati un po' perché li ho già asciugati due volte e loro d'estate non sono abituati ok sono un pochino traumatizzati va bene comunque questo è il colore dal vivo sembra in realtà quei colori che si fanno con le bombolette a carnevale infatti non è che mi piaccia più di tanto il risultato però vabbè due o tre giorni e schiarisce verrà meglio sicuramente ci sono delle zone nelle quali ho messo a parte che sono qua non c'è un'ombra di piega ma qua sono zone nelle quali ho messo veramente ma nella tinta ce n'è anche una qua mi pare ho detto un pochino qua più chiaro però vabbè proverò sicuramente a rifarla provando a poterla magari il meno possibile questa volta l'ho tenuta a 15 minuti la prossima volta proverò a tenerla a 10 8 10 minuti e vediamo magari come viene ci riproveremo magari speravo fosse un pochino più sul fucsia che più sul viola in realtà invece è molto sul viola la cosa che mi fa un po' scazzare è che appunto sulla confezione c'è scritto tieni 15 minuti ti diventa un rosino pastello se hai un biondo platino sotto l'ho tenuta a 15 minuti vedo il biondo proprio della foto e guardate che è venuto insomma vabbè e non penso neanche sia colpa del fatto che ho usato due tubetti perché comunque con metà tubetta avevo fatto metà testa perché poi credo che anche questi tubetti siano fatti soprattutto per chi vuole un po' di punte colorate eccetera non lo so fatemi sapere voi cosa ne pensate di questi capelli vi lascerò un sondaggio quassù e fatevi sapere ultimo momento nel quale vi rompo i coglioni poi giuro vi lascio stare vi volevo far vedere questa candela adesso vi arriveranno le immagini in sovraimpressione praticamente questa candela l'ho regalata alla moglie di mio fratello perché aveva un odore che a lei piaceva molto e quindi ho detto vabbè facciamogli questo regalino e si chiamano My Jolie Candle il bello di queste candele oltre al profumo veramente fantastico io la stessa intensità di profumo l'ho sentite solo nelle Yankee Candle quindi veramente hanno un profumo buono 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 intenso 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 la cosa però particolare oltre al profumo che è molto importante lo stesso è che dentro ogni candela si nasconde un gioiellino il gioiellino che troverete all'interno è o in argento o in metallo radiato con cristalli svaroschi alla ragazza di mio fratello è uscito questo annellino bellissimo bellissimo ringrazio anche loro per avermi inviato il video mentre bruciavano la candela e tiravano fuori il gioiellino perché ero veramente molto curiosa di cosa doveva uscire alla fine e mi piace veramente un sacco quindi sono un sacco contenta di averglielo regalato perché sono felice che piaccia anche lei io ringrazio My Jolie Candle che mi ha offerto questa candela da provare aveva un odore spettacolare già da spenta proprio questo odore di frutti rossi molto 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 intenso ringrazio anche Octoli che mi ha permesso di fare questa collaborazione e anche My Jolie Candle appunto io vi mando un grosso bacione spero che vi piaccia vi lascio tutte le informazioni qua sotto nell'info box Exo Alliance e ci vediamo al prossimo video fatemi sapere cosa ne pensate dei capelli ciao I got hot sauce in my bag swag iscriviti al canale 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 iscriviti al canale